cernobyl durante i lunghi anni le radiazioni si sono impossessate del luogo anche se sembra che si stiano pian piano abbassando come ben sappiamo però la natura e la fauna che vive vicino alla centrale è sotto l'influenza delle radiazioni quindi potenzialmente mutata il video che state guardando risale al 17 settembre del 2005 e quello che state vedendo ne è un esempio un animale mutante vicino al reattore 4 di cernobyl probabilmente si tratta di un alce osservando bene e rallentando nelle immagini anche se quasi irriconoscibile a causa proprio delle mutazioni questo così come molti altri video che girano sul web sono soltanto alcune delle prove di ciò che è accaduto e che tuttora sta accadendo in quel luogo i misteri di cernobyl sono ancora tutti da scoprire grazie a tutti grazie a tutti